Dal 15 al 24 ottobre a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, c'è la 27esima edizione di Euro Chocolate, l'evento dedicato al cioccolato per eccellenza. Didattica, intrattenimento, degustazioni, laboratori ed un grande emporio del cioccolato animeranno la visita di appassionati e gulosi. Tra gli ospiti degli special event di Euro Chocolate, tanti esperti, food designer e soprattutto nomi storici della pasticceria italiana ed internazionale, tra questi Iginio Massari ed Ernst Knamm, che terranno dei live show. Grazie a tutti.